Anche la Sardegna è la sua nazionale di calcio, sono state varate proprio poche ore fa le convocazioni dei 50 giocatori che si dovranno ritrovare, chi risponderà naturalmente agli ordini del Citi Mereu per un primo stage di questa nazionale che ha l'ambizione di partecipare ai prossimi campionati europei, campionati europei che si terranno nel mese di giugno nell'autoproclamatasi da scissione dell'Argerbaijan, Repubblica dell'Artsac, sono campionati europei organizzati da CONIFA che è una federazione che raggruppa nazioni non stati e federazioni non riconosciute a livello internazionale, tra i giocatori più in vista, poi ricordiamo sono stati convocati SAU ed Acqua Fresca e vi parteciperanno anche i giocatori, sono stati convocati anche giocatori che militano nelle due squadre di Sarde che sono nel girone dell'Arezzo, Arzachena e Cuneo. Diciamo subito che non sono solo ed esclusivamente giocatori Sardi ma anche coloro che hanno giocato come Acqua Fresca per molti anni militato in squadre Sarde. In un mondo come quello del calcio soprattutto per noi che viviamo la Lega Pro nella quale non c'è certezza e a tre quarti del campionato non sappiamo neppure quali sono le squadre che continueranno o dovranno o verranno ancora cancellate Cuneo e Lucchese fra queste per colpa delle fideiussioni, è una novità che serve solo a dare lustro ad ambizioni personali. Cuneo. Cuneo. Cuneo.